Un surplus di 36.000 pensionati nel 2019 per un costo di circa un miliardo di euro. E' l'impatto stimato dall'IRPET dell'entrata in vigore in Toscana delle nuove regole pensionistiche battezzate quota 100, vale a dire almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età. L'Istituto regionale di programmazione economica ha calcolato questi numeri facendo ricorso a un modello di simulazione. Numeri che peraltro sono destinati a salire. Con le nuove regole ci saranno 39.000 pensionati in più nel 2020 per poi scendere a 33.000 nel 2021. Nella prima fase quota 100 coinvolgerà soprattutto lavoratori maschi e profili professionali istruiti che hanno maggiore continuità contributiva. Ma ci sono in allarme interi settori come il tessile particolarmente radicato in Toscana. Per il rischio di perdere nell'arco di breve tempo molti lavoratori qualificati e difficilmente sostituibili. L'IRPET segnala anche due aspetti problematici legati all'introduzione di quota 100. Non è affatto scontato che si avrà una sostituzione generazionale visto che la domanda di lavoro è in continua e profonda trasformazione ed è strettamente correlata al ciclo economico piuttosto che alle condizioni del sistema pensionistico. E ci sarebbe poi il rischio di avere tra una ventina d'anni un deficit pesante di offerta di lavoro difficile da coprire con gli immigrati o con l'aumento della produttività.